Sì, che c'è? Sì, che c'è? Sì, che c'è? Non posso scopo, c'è? Lo ho ritorno, saremo nascute in casa da un'esercitata, se non si faccio il cuore. Sassi, non? Sassi, non lo ho ritorno. Sassi, non lo ho ritorno. Allora, io, hai scopo? Vieni, hai scopo? Hai scopo? Hai scopo? Ilha, è fai scopo? Non so, dall'assistate da un'esercitata, si fa ha e lo n'e, non lo fa e c'è? D'esercitata da un'esercitata da un'esercitata. Quon è fuori? Qui? Sono a fuori. Is this... Is this the case? Non, non, on in us. Do not, do not. Do not come. Come, and we'll come in. Perché? Che lavoro? No a fare un canale No a fare un canale D'accordo, ci siamo in più. Perché un canale? D'accordo Ok Pinting Siamo aLEtta Siamo aLEtta un canale se la noce aLEtta se noi possono leggere un canale Si, voi farò un lavoro di questo poi ci sono e ci sono e ci sono un po' non se si è venuta e ci sono i luoghi ok? ok allora un po' per me ok ciao 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 Oh Esa allora non sai n'essi che devo dire dire la d developed a progett問 non altro Esatto e 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